Che cosa ne pensa della richiesta fatta dal prefetto di Lodi ai sindaci della provincia? È una richiesta inaccettabile per quanto riguarda la gestione dei profughi e l'accoglienza penso che il lodigiano abbia già dato e abbia dato molto di più di quanto poteva dare. Il prefetto di Lodi sta svolgendo non un ruolo di tutore dei cittadini e rappresentanti del governo sul territorio ma un ruolo di ambasciatore di stati esteri che fanno arrivare queste persone. È una cosa che riteniamo inaccettabile. Il prefetto dovrebbe pensare a tutelare i cittadini del lodigiano, dovrebbe pensare alla crisi sociale ed occupazionale che c'è nel lodigiano, dovrebbe pensare soprattutto alla sicurezza dei lodigiani che sono soggetti a furti ed episodi di microcriminalità ormai quotidiani. Invece il prefetto ha come priorità la gestione ed il business dei profughi. È una cosa inaccettabile. Noi chiediamo al prefetto che dica di no all'ennesimo tentativo di accoglienza e gestione con interesse di queste persone, che dica di no al governo centrale e se non dirà di no lo invitiamo a fare le valigie, ad andarsene da Lodi perché noi non abbiamo bisogno di un prefetto che si occupa di stranieri ma abbiamo bisogno di un prefetto che tuteli la sicurezza dei cittadini.